Il periodo evolutivo chiamato uomo. Quali sono le gabbie della mente? Commento. L'ideologia, la prassi, la filosofia, il canone, il dogma, sono le gabbie in cui vive la mente. L'individuo che intuisce come il periodo evolutivo chiamato uomo debba essere trasceso, crede sempre meno a questi costrittori della sua evoluzione e vive sempre più di coscienza.